Ciao belli! Benvenuti alla prima parte del terzo episodio di The Walking Dead. Prima di iniziare vorrei ringraziarvi per la pazienza che avete in aspettare i miei video. Vi ringrazio per la fiducia che mi dimostrate e per ringraziarvi come si deve. A partire da oggi per 3 massimo 4 giorni, tempo permettendo, rilascerò un video di questa serie uno al giorno. Ed ora basta fare i seri. Spero che gradirete questo video e ora giochiamo. Episodio 3. La strada è lunga. Li sbaglio o ha cambiato i vestiti? Prima era il giubbotto. I jeans non me ne ricordo. Eh, magari. Mi sembra che si mette per sorpresa. Sì, sì. Beh, il meno che vedo, il più felice sono. Kenny sempre incazzoso. Quello design è atto, bello il design è atto. Ah, giusto. Mi sto dimenticando. Quello di Cravio Lab stanno facendo veramente un bel lavoro. Come vedete stanno traducendo anche le scritte delle immagini. Non solo i sottotitoli, ma anche quelle scritte nell'immagine, come vedi, di sopra, sopra Everett è scritto in italiano. La camera shop. Vabbè, a parte shop. Vabbè, comunque, stanno facendo veramente un buon lavoro. Oltre che Fifone, anche un danno. Oh, c'è il sangue per terra. Povera Macum. È tutta distrutta. Kenny, c'è un elicottero sul tetto. Non c'avevo fatto caso prima. Scusa, dammit. Non posso arrivare. Scusa, ragazzi. Ok, stai preso. E nell'episodio 1, forse il 2, mi ricordo, quando stavano scappando lì dalla farmacia, ci sentivano i militari e gli elicotteri. Questo è quello che rimane. Wow, lì è proprio dove eravamo noi, lì dentro. Questo qua è tutto quello che rimane dopo lo scontro tra i militari e gli zombie. Due pubbighi vaganti. Vaganti 1, militari 0. E beh, che tra me e Lily c'è un po' di feeling. 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 Ok, c'è un po' di feel the smell before. Non posso tr brokers. C'è un po' di fervor aальноеüy clients. ovviamente lo ha fatto cosa diceva? voleva sapere se il figlio di Hershel è sicuro che non lo sapeva non preoccuparti hai fatto come un ero in gli occhi non è così sono sicuro che sei a questo Lee, sono bene, ho fatto dà me la mano città città lì è proprio uno sfigato sempre si può mettere sotto le prende dagli zombie dagli amici da tutti le prende è proprio un po' sfigato che poi è strano che hanno scelto come protagonista uno di colore di solito gli neri sono il primo a morire nei film invece qua di fallare le botte intanto c'è un attimo che scappa dai zombie un walker? i walkers non si scrivono, non? non credo è una donna dobbiamo aiutare non c'è una donna 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 mi spiace ma devi morire furgerà dalle scorte dai su mi viene in formica da un'altra volta ok utile come è Non lo tirano? Oh, lì la prende sempre, ok, però quando c'è da arraffare è un missile, oh, un arraffo. Quali quanta roba? Non c'è nulla, non c'è nulla. Credo che sia tutto. Questa ragazza non è morto per niente, allora. Ora e ora. Non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Che schifo, quello zonchino, non c'è nulla. Ci vedete l'osso. Eh, due secondi. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla. C'è nulla. C'è nulla. Cheia! No, 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 no. Io ho guardato lo stesso, ma se ero lì in difficoltà neanche me l'hai dato una mano. Ma pensa te? Caricanetto. Quante frecce. I banditi ci hanno proprio bersagliato. C'è un peso di mira. Ho visto che alla fine della felpa c'è la messa. Hey sweet pea, è necessario, lo troverò in un minuto. Questa è vero che abbiamo il ragazzo di guardare. Cosa hai? Potremmo lasciare un signo che dice che i bambini stanno andando. E venire a rapare le donne e i bambini. Ah. Quindi, cosa hai? Molto cose. Ci siamo bene, ad esempio. E' un buon lavoro. Questo ci sta mantenendo. Se continuiamo così, ci saranno passando l'interno qui. L'interno? Ci saranno i bambini qui qui. E' perchè mettere in un rv con te, dopo quello che hai fatto con mio padre, è molto appena. Perché non sarebbe? Tu sai, io faccio quello che è necessario per mantenere tutti i bambini. Cioè, potevano comunque farlo leggere quello che dicevano. Non sto parlando un pezzo. Cioè. Cioè. Abbiamo abbastanza di aeroshaffi che si stanno andando. Cioè. 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 迷 Cioè. Penso se colpo l'Ital Tech Games. Cioè. E uno può essere un osa. Ma ci sono tocca Eller Hii Milton. Cioè. facendo un pezzo di mmmm.. Il popolare trattarsi, o cosa ha fatto facili quale margine? Quali cosa ha detto remarkini? Cioè. Lani freddu. Cioè, Cioè. Cioè, Cioè, Cioè. Eccomi si Chi viene bandito a una pezzo di 500. Cioè. fightesti con la 겁니다. Quello parte potrebbe護are le corne su一起. Cioè. a dire questa frase è venuta in mente colorato ma che voglia di fuga fuga vabbè torniamo a noi un po' 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 Voi che cosa avete fatto? L'avete salvata o l'avete usata come inizia? Cosa io lo so? Io lo so che non sei above murder! Io lo so che qualcuno ha stato scelto le nostre spalle! Certo, scelto! E io lo so che la lista di persone che posso confondere è più piccola ogni giorno! Già mi odio! Poverina, sei arrabbiata! Figo, adesso andiamo in giro armati! C'è la pistola! C'è la pistola! Poi più o meno hanno una testa! Lui hanno preso il testo e la pistola! Una c'era che era quella di Carter e le altre... I fucili li avevano già le pistole e dove saltano fuori! Non ero nella station wake! Beh, io credo che hai fatto bene oggi! E mi trovo a pensare che la maggior parte dei giorni... Boh, vabbè! Grazie! E' probabilmente valutare a seguire con Lily su quello che stava dicendo sui servizi! Sì, arrivo tra un attimo! 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 Alguien, uno di noi, dentro! Lui, lui, lui o lui hanno stato prendendo cose! Per vero? Chi? Che hai? Sì, per vero! E non ho c***o! Solo lo so! Lily! Questo è proprio lo buono! Antibiotiche, oxigeno! Pfff! Qualcosa cosa con opium in in live! Io vi ho imposto l'altro! E' uno che è quasi finito! Però non è stato pure lo stesso! Sono una f***a finita! Ma non sono stupida! Sì, lo farò se mi comincia un nuova! Quindi voglio che io iniziare una? Io voglio che Ti puro girare un window per il tuo telefono! Eh sì, adesso con calma! Calma, sorella! Che c***o per andare? Piazza e amore! Ho trovato quello che riuscita nel pezzo. Non riusciamo l'acquipamento, lo riusciamo. Tu dovresti provare a riuscire un'acquipamento se lo utilizzate quando non dovresti. Ok, faccio un pochino. Grazie. Un'istituzione! Sto pavro. Boh, io non so chi sia. Non potevano usare Sherlock Holmes e... Come si chiama? Watson. Cioè, sono più conosciuti. Robin, chi è Robin? Non ti dico a nessuno. Sì, Chris. Sì, bene. Ma che farei? Non lo so. Andate a guardare. E... Ehm... Acculturiamoci. Ehm... 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 Very... È molto... Ehm, quello. Allora, cercième. Grazie a dire, te. RM... Arduino donano. like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. That'd be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. Okay. Talk to Lily yet? Yeah. She thinks supplies have been walking away. Really? There's some broken equipment too. I'll look into it. Thanks for doing that. What I wanted to say was I've been thinking a lot about you. What about? A que propósito? You're a convicted killer. Carly, Jesus. And I think people should know. Not because they deserve to and not because you're a bad man. I think the opposite of those two things. People need to know because we're hanging by a thread here and I can't see Lily talk about you without thinking it's the next thing she's going to say. You don't have to tell everyone, but think about who you trust and take the opportunity while you have it. You're probably right. Of course I'm probably right. People might be pissed and telling them might cause some trouble, but it will be a far cry from what'll happen if they don't hear it from you. Yeah. So you'll do it then? I'll let people know. You're totally right. Good. I think it's for the best. Oh, Lee. Hai fatto co-coop. Now, is there anything else you want to talk about? And who knows how he wants to thank you. Do you know anything about this flashlight? It's broken. I know it's broken. And the batteries might be in backwards. It uses just one. Everything should. Everything should. What was the question? Did you break the flashlight? No. Oh, okay. Come non potrebbe essere stata lei? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. Do you feel safe here? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-bodied Malbec and then I'll feel safe. I don't know. This place is fine, but we all know that that could change at any second. You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time, but there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them, but everyone's different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to go. I'm going to look into this thing. Good idea. Ciao, Belli!